Mario a me tu sei un meglio che tu guarda a me sei stata è il resto più importante sei stata in scuola di vita e scuola di canto e sono orgoglioso di vedere a me si è fatta e ora facciamo la loro regala a sto popolo della comunità quando a mangiare pensi in questa manzina a me mi ricorda per me di che 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.